Ciao a tutti ragazzi, io sono Kendal e benvenuti in un nuovissimo video di Minecraft Come potete ben vedere, quest'oggi mi trovo all'interno di una stanza piuttosto particolare Ciao, il concilio ti vedrà adesso Ok, tipo il segretario, lui Ehm, quindi devo andare di qua Ok, apriamo la porta e... Uh, salve a tutti, sono l'imperatore Kendal Oddio, sento come se tra non molto mi giudicheranno Ragazzi, dovete sapere che questo è il concilio dei massimi esponenti di Minecraft Salve, benvenuto amico mio in Which Doesn't Belong Ok, ora si presentano Abbiamo l'Evoker, poi c'è il Villager, la Strega e l'Illusioner Perché mi avete portato qua? La Strega ha preparato uno spettacolo per te Benvenuti ragazzi in Trova l'Intruso su Minecraft Per chi non sapesse di che cosa si tratta, come vedete abbiamo davanti quattro scelte E dobbiamo selezionare e scegliere quello che secondo noi può essere il blocco intruso Quindi uno che non ha niente in comune con gli altri A me verrebbe da dire questo, perché è l'unico blocco che si può trovare nel Nether Questo si trova invece nel mondo normale Questo pure, questo pure Vediamo se ho ragione Boom! Ok, risposta corretta E infatti la spiegazione è la stessa che ho dato io Prossima domanda Allora abbiamo diamante, carbone, lapis e oro Mmm... Beh, sono tutti e quattro dei minerali Se ce ne fosse stato uno Deep Slate avrei detto Ecco, questo è Deep Slate, gli altri no Invece sono tutti uguali tra loro L'unica cosa che mi viene in mente è che questo si scava col piccone in ferro Questo si scava col piccone in ferro Questo col piccone in ferro E questo invece lo puoi scavare più o meno con qualsiasi piccone vuoi Quindi direi carbone Oh, corretta di nuovo Vabbè ragazzi, ma queste sono le domande iniziali Sono troppo facili per un imperatore Vediamo se diventano più difficili Allora, ci abbiamo legno, legno Legno del Nether e bambù Mmm... No, aspetta, questo è bambù? Sì, è blocco di bambù Quindi non c'entra nulla con il legno Questi tre sono legni e questo no Corretto? Sì, corretto! Prossima domanda Terra, gravel, soul sand, netherrack Cos'hanno in comune questi blocchi tranne uno? Allora, la gravel ha la gravità Ma non credo c'entri qualcosa Aspetta, forse si può rompere con la pala Si può rompere con la pala Si può rompere con la pala Non si può rompere con la pala Però allo stesso tempo mi viene da dire che La soul sand è l'unico blocco che ti rallenta Gli altri invece no Devo fidarmi del mio istinto ragazzi Ma voi non potete aiutarmi? No Mi fido dell'istinto Ti prego Sì! Era giusta! E anche la spiegazione era giusta La soul sand è l'unico blocco che ti rallenta Prossima domanda Vabbè dai, questo è troppo facile Scusa, sarà questo no? Queste sono tutte quante concrete dure, cemento E questo invece è concrete powder Ah, ok 5 su 5 Ma sono troppo forti ragazzi Mamma mia, è incredibile Oh, che sta succedendo? Il villager si è preso il calderone Scusa, queste domande erano troppo semplici Ora ti arriva la vera sfida Ah, ecco Ma a me piacevano quelle semplici Allora Balla di fieno Jack o lantern Iron block Lock e log scortecciato Hmm Cosa hanno in comune tre di questi? Allora Fammi pensare L'unica cosa che mi viene da dire È che questi tre Si possono trovare in un villaggio Perché con il blocco di ferro Ci trovi l'iron golem Praticamente Le jack o lantern pure Sia l'iron golem Che quelle piazzate per terra E queste invece le trovi nelle coltivazioni Mentre invece il log scortecciato Lo devi fare tu In natura non esiste No, ho sbagliato Ecco Adesso sarà un disastro Ambarapacciccoco No, 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 no Sto scherzando Allora Questo si crafta Questo si crafta Questo non si crafta Si intaglia Eh, ho sbagliato di nuovo Ah, boh ragazzi A sto punto andiamo per il ferro Dai Ho sbagliato Tutte le ho sbagliate Va bene La risposta corretta è la balla di fieno Perché è l'unico blocco Che può salvarti da una caduta Va bene Ma come cavolo ci doveva arrivare Va bene, va bene, va bene Riproviamoci Allora Blocco Di cui non conosco neanche il nome Barile Blast furnace E Beacon block Allora Credo Che la differenza Stia di nuovo Nei crafting Questo qua Si può craftare Questo si può craftare La blast furnace Si può craftare Ovviamente ragazzi Giocate Assieme a me Quindi cercate di rispondere con me E poi fatemi sapere le risposte Nei commenti Allora Mi viene da dire Che questo si può craftare Questo si può craftare Questo si può craftare Questo no Questo è un blocco Che trovi nei villaggi Giusto? E invece no Perfetto Cioè praticamente ragazzi Non ne so niente di minecraft Sono troppo difficili Le vostre domande Cioè perché Se la risposta ad esempio È il beacon È l'unico blocco Che ti dà degli effetti Non avrebbe senso Però potrebbe essere Quella la risposta E invece no Valedetto Dai andiamo di blast Si vabbè Ma non le posso sbagliare tutte La risposta corretta Era il barile Perché è l'unico blocco Fatto di slabs Ah Ok Allora Uh cavolo Questa è veramente difficile Quindi abbiamo Quattro tipi di terra Terra normale Terra brulla Questo sinceramente Non ho neanche idea Di che tipo di terra sia La course forse Boh E questo invece È il sentiero Che fai con la pala Aiutatemi Vi prego Non ho la minima idea Di quale possa essere La risposta Sono tremendi Non mi aiutano Boh Mi viene da dire Che questo è l'unico blocco Che devi creare tu no Perché per averlo Devi proprio Fare lì con la pala Proviamo Eh niente Certo Ti pareva Ovvio Dai vediamo se ne sbagliamo tutte Vai questa Certo Allora sarà la terra normale No vabbè Io mi rifiuto La risposta giusta è Course dirt Perché è l'unico blocco craftabile Comunque adesso sono veramente Troppo difficili Barbabietola Patata Carota Grano Sarà grano Perché col grano Cioè il grano Non lo puoi mangiare Questi invece sì Questi tre li puoi mangiare tutti individualmente Il grano invece devi craftarci il pane È ovviamente sbagliata Ma porca miseria Guarda E allora sarà la barbabietola No ragazzi Comunque secondo me è fatto apposta Cioè mi ha fatto sbagliare tutto apposta Io non ci credo che le ho sbagliate veramente tutte Ok adesso il calderone torna alla strega Nether Nether Fungo fungo Oddio sono in difficoltà Qual è la risposta Vabbè questi due dai non penso Perché sono troppo simili tra di loro Mi verrebbe da dire Questo perché ci puoi mangiare Sì È l'unico blocco che troppa un oggetto quando viene rotto Ok Comunque ragazzi ho una teoria Secondo me le domande di prima Me le ha fatte sbagliare di proposito Cioè nel senso che qualsiasi risposta avrei dato Sarebbe stata sbagliata Allora Rosa del Wither Rosaio Fiore raro del Dello sniffer E petali Allora Mi verrebbe da dire questa perché è l'unico che non trovi In natura Però in realtà anche questo non lo trovi in natura O meglio lo trovi però dallo sniffer Questo invece lo ottieni se il Wither uccide un animale Proviamo questo Sì Giusto Sono l'unico fiore droppato da un mostro Ma visto che allora le risposte io le conosco No no Prima mi stava trollando secondo me Me le ha fatte sbagliare tutte appositamente Ne sono sicuro Allora Cancelletto rosa Staccionata Muretto Staccionata in Nether Vabbè Cancelletto Sì ma sono troppo facili adesso Ma che sta succedendo Concilio La strega le fa facilissimi Ah Non ha imparato nulla sulla difficoltà E ora si prende lui il calderone Oh mio dio Ok ecco lo sapevo Vedi No è fatta posta È troll È troll Mi ha messo lo stesso blocco Per farmi sbagliare a prescindere Io ora qualsiasi cosa clicco Sarà sbagliata Ah no Ok ora è giusto No aspetta però Ah certo Perché lui è l'illusionista E quindi mi ha messo quattro blocchi uguali E come cavolo faccio a capire qual è l'intruso Questo No ho sbagliato Ok questo No Questo Eh sì vabbè allora è sempre questo Corretto Va bene Ah devi contare i pixel No no stai scherzando Devo veramente guardare i pixel E vedere se ci sono delle differenze Ma siamo pazzi ragazzi A me sembrano uguali Oddio No impazzisco Qua ci perdo le diottrie Ragazzi divento cieco Non posso Ma poi si muove Non posso neanche analizzarlo E boh proviamo di nuovo questo Oh Calmiamoci Concilio Allora questo No Mi sta trollando Ne sono sicuro È impossibile rispondere a questo Vedi guarda cazzo sono tutte sbagliate Eh sì certo Oh Ehi Aspetta un attimo Ma quel warden Oh mamma mia Ok Hanno ridato il calderone alla strega Che è quella che fa le domande facili E infatti adesso ci ha messo di fronte alla scelta di Ender Eye Clock Bussola del warden E bussola normale Questi due le escluderei Perché ovviamente sono molto simili tra loro E questi due invece hanno Una funzione molto diversa tra loro Ma in ogni caso Tutte e tre comunque Servono per misurare qualcosa Questo misura le distanze Questo misura il tempo Questo ti fa trovare il portale Oh Risposta giusta Patata velenosa Pufferfish Ah sono tutti e quattro cibi che ti avvelenano Però aspetta Perché questo ti avvelena la vita Questo ti avvelena la fame Questo ti avvelena la vita E questo ti avvelena la vita Quindi direi che è questo quello giusto Cioè o meglio L'intruso Oh Anche questa era corretta Bene Benissimo Avevo ragione Oh L'Evoker si è arrabbiato Ho detto Strega non hai imparato nulla Ridammi il calderone Oh stanno litigando Litigano tra di loro Eccolo Eccolo Si è preso il calderone Farà lui le domande adesso Iniziamo Oh Calmati eh Allora Ci abbiamo No ma poverino Un merluzzo Una baby mucca Baby tartaruga E coniglietto Mi viene da dire che sono tutti i baby Tranne il merluzzo Che non può avere la versione piccola No Corretto Ah no La risposta era un'altra Oddio Ho ucciso tutti Tranne il merluzzo Prossima domanda Allora Silverfish Pollo Silverfish Maiale E pecora Cos'è che hanno in comune Tre di questi Ho come l'impressione Che la mia risposta Non importi Cioè quindi qualsiasi cosa dico Lui le ammazzerà Facciamo il pollo Così mi ammazza il pollo Non l'ha ucciso Silverfish Ah sto provando a uccidere me Pecora Corretto Solo la pecora Sopravviverà Eh ma scusami Però così Ok prossima domanda Ha rotto tutto Oddio un mini gattino Mini cagnolino Salmone E pollo Non lo so Andiamo di pollo Tanto li ammazza tutti ora Solo il pollo Sopravviverà a questo Ecco Perché era l'unico Che aveva il vetro Stanno litigando ragazzi Ma che è sta mappa Ecco vedi vedi L'ho ammesso Stai cercando soltanto Di fregare il giocatore Con delle domande impossibili Boom Lo sapevo Mamma mia ragazzi Io ho paura Me ne posso andare per favore Plot twist ragazzi Quale di loro È l'intruso Mi hanno fatto tutti e quattro Delle domande Allora la strega Faceva domande semplicissime Il villager Impossibili L'illusioner Invece ha cercato Di fregarmi Mettendomi tutti quanti Gli oggetti uguali E l'evocatore Invece ha ucciso Tutti i concorrenti Non gliene fregava niente Delle risposte Voleva solo uccidere Quali di questi Quattro È l'intruso Chi votiamo per cacciarlo Dal concilio Io direi lui Perché ha ucciso tutti Ed è cattivo E poi tra l'altro È l'unico Che ha ancora il vetro addosso Però tutti e tre Si sono alleati Contro la strega Che faceva domande Troppo semplici Povera strega L'unica buona Io tolgo l'evoker Mi fa paura Vattene Era la risposta giusta? No aveva il totem Ah pensavi veramente Che io potessi morire? Ho sempre un totem con me No Ho sbagliato Vi hanno tirato una pozione Brava strega L'hanno ucciso Amico Capisco la tua scelta Al nostro concilio Adesso manca un membro Vuoi prendere il suo posto? Eh Sì Voglio prendere il posto Benvenuto al concilio Mio amico Ragazzi Oddio È finita la mappa? È finita Sono diventato membro Del concilio Dei quattro potenti Di minecraft E questi sono tutti i nomi Di chi ha doppiato i personaggi Bellissimo Wow Beh almeno è stata diversa Grazie per aver giocato Beh ragazzi Io spero che questa mappa Vi sia piaciuta Se così è stato Mi raccomando Lasciate un mi piace A questo video Io personalmente Mi sono divertito molto Anche se Continuo a insistere Nel fatto che Le domande del villager Secondo me Erano tutte quante false Quindi qualsiasi risposta Avrei dato Mi avrebbe detto Che erano sbagliate Dal vostro candle è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.